Ciao a tutte e a tutti, sono Giorgia e oggi sono qui per parlarvi delle notizie nerd dell'ultima settimana partendo dalle ultime dichiarazioni di James Gunn. Ho parlato su Twitter di possibili prodotti legati ai personaggi Vertigo. Non ha fatto annunci precisi, ma già sappiamo che film e serie tv annunciate finora sono solo metà di quelle che usciranno in quello che è stato chiamato capitolo 1 del nuovo universo DC. Quindi potrebbero esserci novità proprio provenienti da Vertigo. Per chi non lo sapesse, Vertigo era un'etichetta DC che si occupava di fumetti destinati ad un pubblico più maturo come per esempio Sandman e Preacher. E oltre a questo sarà lui a dirigere Superman and Legacy, un film che è previsto per l'uscita per luglio 2025. Oltre a questo si sapeva già che si sarebbe occupato della sceneggiatura del film che racconterà di un Clark Kent non ancora adulto a Metropolis. John Mertal tornerà nel ruolo di The Punisher in Daredevil Burn Again, la nuova serie tv, mentre non sono stati confermati gli attori di Foggy e di Karen Page che probabilmente saranno interpretati da attori differenti, però ancora non si ha notizie. È uscito il trailer del live action dei Cavalieri dello Zodiaco che sarà distribuito nei cinema italiani dal 26 di giugno di quest'anno. E prima di passare all'argomento fumetto, passaggio intermedio tra fumetto e cinema, verrà prodotta una versione animata di Sono ancora vivo, un fumetto autobiografico in cui Saviano racconta la propria vita sotto scorta. Invece, appunto, passando al fumetto, Tom King sarà il nuovo sceneggiatore di Wonder Woman, la testata verrà rilanciata dal numero 1 a settembre e vedrà questo grande autore alla scrittura. Ovviamente, dal mio punto di vista, è la prima notizia della settimana per il mio amore verso Tom King. Tra l'altro, vedremo già una sua prima storia con lo stesso disegnatore che si occuperà della serie, Daniel Samper, che sarà all'interno del numero celebrativo, il numero 800 di Wonder Woman, che uscirà il 20 di giugno. Non è l'unica novità annunciata da DC Comics, ci saranno infatti alcuni rilanci, tipo The Flash, che avrà delle storie più horror. Manca una nuova testata dedicata a Dao Girl, in cui l'eroina arriverà a Metropolis. Al Comic Con di Napoli, quest'anno verrà presentata la rivista fumetti nata dal progetto Giga Ciao, fondata da Sio, fra Frog, Dado e Giacomo Keison Bevilacqua, che era stata presentata per la prima volta a Luca Comics. Ancora non ha una copertina ufficiale, ma io ho idea che questa sia la vera copertina, però vabbè, è una mia ipotesi. E riparte anche la pubblicazione del fumetto Airstopper dopo la pausa di circa un anno. Dopo una serie di cose belle che stanno iniziando o riprendendo, altre devono finire, dal mio punto di vista una delle cose più belle degli ultimi anni, Cip Zarsky ha annunciato tramite un'immagine sui suoi social che il ciclo di storie di Daredevil insieme a Marco Checchetto si concluderà ad agosto di quest'anno. E per finire, diciamo, le notizie più tristi, il 14 marzo è morto il fumettista Luigi Peccatto, noto soprattutto come disegnatore di Dylan Dogg, sul quale esordì nel numero 8 del maggio 1987. Prima di passare alle cose, alle novità che trovate in fumetteria questa settimana, dal 10 aprile al 7 maggio, Bao avrà i soliti sconti annuali del 20% su tutto il catalogo, esclusi le novità uscite negli ultimi sei mesi. Sto pensando di fare un video con le cose più interessanti da poter acquistare con questi sconti, non so se può interessare. E ora, novità? Per Planet Manga è uscito Elder Ring, il numero 1, al prezzo di 7€. Era già stato pubblicato in digitale, adesso iniziano ad uscire le raccolte in volume e è appunto una storia legata al famosissimo videogioco. È anche uscito il primo numero di Sakura Saku, al prezzo di 5,20€. Racconta la storia di come Saku viene aiutata da un angelo misterioso a superare un momento molto difficile e di come lei decide di ritrovare questo angelo. Per Marvel, invece, è uscito il colossale volume che raccoglie tutto il ciclo di storie di Miracle Man, scritto da Lamour. È un cartonato di 808 pagine e costa 84€. Mentre per DC, pubblicati sempre da Panini Comics, potete trovare il primo numero di Tom Strong, che raccoglie i primi 12 numeri della serie del 99, al prezzo di 36€. Dotato di capacità fisiche e mentali fuori dall'ordinario, Tom Strong è l'eroe protettore di Millennium City. Frutto di un esperimento scientifico-pedagogico dei suoi genitori scienziati e accompagnato dalle sue avventure dal robotico Pneuman, dallo scimmiesco Re Salomone, dalla figlia Tesla e dalla compagna D'Alua. Tutti i fumetti nominati potete già trovarli in fumetteria, visto che sono usciti nell'ultima settimana. Alcune novità uscite al cinema in streaming di queste settimane sono sicuramente l'uscita di Shazam, La furia degli dèi, uscito al cinema, e la seconda stagione di Tenebre e ossa su Netflix. Mentre novità che arriveranno, il 31 di marzo, su Prime Video uscirà Ragazze elettriche, una serie tv tratta da romanzo. Nelle prossime settimane ci sono anche vari eventi. Dal 25 al 26 di marzo ci sarà Lucca Collezionando, una fiera dedicata più al collezionismo vintage rispetto alla sorella maggiore, Lucca Comics. Mentre negli stessi giorni a Milano ci sarà Briccola, un festival del fumetto indipendente. Vi lascio in descrizione un articolo di Lo Spazio Bianco che ne parla e raccoglie anche i fumettisti, i collettivi che saranno presenti. Dal 30 marzo al primo di aprile invece ci sarà la prima edizione di Regina Fumetti Festival a Cattolica con la direzione artistica del fumettista Alessandro Baronciani. Per questa settimana è tutto, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.